La cura della casa comune può diventare una lente attraverso cui leggere la società e l'azione politica. Il convegno nazionale, l'agenda ambientale interroga la politica, è partito dalla riflessione secondo cui l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco può servire per una nuova visione politica. Ascoltiamo. La cura della casa comune può diventare una lente attraverso cui leggere la società e l'azione politica se ne è occupata nei giorni scorsi la due giorni dedicata al tema l'agenda ambientale interroga la politica promosso da Green Accord Onlus e dall'Associazione Rocca dei Papi a Roma. Attuare la conversione ecologica di cui parla Papa Francesco per modificare profondamente la direzione del procedere dell'umanità adottando criteri di giustizia sociale e giustizia ambientale secondo Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord è possibile ma serve un'azione politica e un impegno che vadano oltre i limiti dei tempi e delle decisioni a cui siamo abituati per poter guardare al futuro con più serenità. Tutto nasce da una domanda. Prendendo spunto dal pensiero della laudatosi, può nascere un progetto di politica e di bene comune che unisca quanti condividono la passione per la cura del creato? La laudatosi, ha spiegato padre Giacomo Costa, direttore del mensile dei Gesuiti e Aggiornamenti Sociali non è solo un'enciclica che invita la cura della casa comune ma ha avuto da subito un forte impatto politico. Uno dei passaggi più importanti delle encicliche è sicuramente il difficile rapporto tra politica ed economia. Con la pandemia, ha sottolineato Don Costa, tutta la visione che avevamo del mondo è cambiata. La politica non deve essere finalizzata a risultati immediati ma deve lavorare avendo lo sguardo ampio verso il futuro. Ma questo lo può fare solo con un'economia che diventa servizio dell'uomo. La stessa cultura ecologica non può essere ridotta ad una serie di regole ma deve abbracciare tutti gli aspetti della vita di ognuno. Siamo chiamati tutti a questo cambiamento. Diventa importante che non ci si chiuda nel proprio pensiero, credendo che sia il migliore ma che si costruiscano legami tra opinioni differenti e che ci si apra dunque ad un dialogo in modo che ci sia una narrativa comune che permetta a storie differenti di riconoscersi in un cammino identico. È sempre più urgente rallentare la marcia per guardare la realtà in modo diverso ed è per questo fondamentale recuperare valori come solidarietà e dialogo soprattutto con le fasce più giovani e questa è la conclusione del convegno che hanno sempre più bisogno di progetti ma nella loro fragilità emotiva chiedono di essere guidati e aiutati dagli adulti a diventare protagonisti del cambiamento e a trasformare i loro timori in passioni verso la vita.